Credo che mi pare evidente oggi che con AFD non ci siano delle distanze insormontabili, sono diverse, potremmo citare diverse, ma insomma partire dal tema del rapporto con la Russia, sul quale invece per esempio il Rassemblement National di Marine Le Pen secondo me sta facendo un ragionamento interessante. Dopodiché, ripeto, non sono una persona che ritiene di dover distribuire patenti e ritengo che anche quelli che, diciamo quando ci sono, una riflessione che va fatta è che quando ci sono dei partiti in grandi democrazie europee che prendono il 20 e il 30% dei consensi, ci si deve anche interrogare su come rispondere a quei cittadini, ma questo non lo dico per me, lo dico rispetto al tema, diciamo, delle classi dirigenti europee, perché evidentemente qualcosa non funziona, no? Delle risposte che si stanno dando, questo è sicuramente una valutazione che va fatta. Dopodiché, ripeto, insomma, sono chi più distante, chi meno distante, io lavoro per ora soprattutto con i conservatori europei e questo mi interessa. Grazie Federica Valenti, Agi.